Ma ora i consumi, per rispondere anche al Presidente Ferroalimentari, i consumi ripartono per esempio anche mantenendo la promessa che Renzi ha fatto di pagare, l'aveva fatta lo scorso anno, lui entro il 21, 20 settembre 2014 si era impegnato di ridare alle imprese i soldi, i famosi debiti della PIA, ossia tutti i soldi che le imprese dovevano avere per lavori fatti. Zero, cioè alla data del 21 settembre alle imprese non sono arrivati ancora 70 miliardi, mi sembra una cifra abbastanza consistente.